Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caro saluto ai nostri ascoltatori Cominciamo questo terzo appuntamento riportando alcune dichiarazioni La prima è quella di Aldo Dolcetti collaboratore di Massimiliano Allegri che a tutto mercato web ha elogiato l'umiltà e la personalità di Federico Chiesa gli riconosco qualità significative per affermarsi se mantiene la sua umiltà e la sua personalità e migliora nel giocare per sé e per la squadra può essere un anno decisivo per lui per la Fiorentina e la Nazionale Passiamo alla seconda dichiarazione che è quella di Sebastian Frey ex portiere della Fiorentina su Dragoschi che ha definito una scelta coraggiosa nelle critiche che arriveranno perché a Firenze si parla tanto di Fiorentina ci vorrà qualcuno che lo protegga per lui non sarà facile a livello psicologico a livello tecnico le qualità ce le ha qui per Fiorentina 1 Graziano Davoli Viola Tweet Viola Tweet a cura di Fiorentina 1.com la voce del tifoso Viola a cura di Fiorentina 1.com